Purtroppo la decima puntata di Bad Batch è stata odiata ancora di più da moltissimi fan che l'hanno ritenuta ancora peggiore della precedente Sottolineando che non ha avuto alcun minimo senso come la precedente puntata E che ormai le ultime puntate di Bad Batch stanno diventando soltanto filler E si preoccupano molto di più che questa possa rovinare la serie andando avanti Beh io non faccio parte di quella categoria di persone perché prima di tutto io ritengo che questo episodio anche se non è stato molto importante Non ci ha introdotto i personaggi che volevamo rivedere come magari Rex, Echo E non ha fatto progredire l'arco narrativo dei personaggi ci ha almeno introdotto una nuova avventura Ci viene introdotto Benny, il misterioso ladro che aveva rubato la nave della Bad Batch e che molti fan hanno chiamato scherzosamente Fake Ezra Per via della somiglianza con il personaggio Scopriamo che questo ragazzo viene tenuto prigioniero e schiavo da un certo Mock, un signore del crimine che sfrutta altri ragazzi E li costringe a fare delle lotte per il cibo per essere congratulati Ed è di razza zaigeriana, la stessa razza che compare in Clone Wars Molto nota per il suo impero schiavista La Bad Batch intanto rintraccia i loro gong droid all'interno dell'astronave e raggiungono questo Benny e lo minacciano di aiutarlo a trovare la loro nave Quest'ultimo inizialmente decide di aiutarli dato che la squadra lo minaccia e sembra che inizia ad avere una specie di amicizia nei confronti di Omega Ma purtroppo Benny li tradisce come era prevedibile e li consegna a Mock La Bad Batch viene inseguita ma la squadra di Mock si ribella grazie a Benny che rivela tutti i piani originali di Mock e tutti scoprono che erano stati trattati come degli schiavi E nella confusione Mock cade nel vuoto Scena che non so voi mi ha dato vibes della caduta del sacerdote malvagio di Indiana Jones nel suo secondo film A Bad Batch finalmente si riprende la nave E Benny dice ad Omega che molto probabilmente si rivedranno nel caso a lei servisse un ladro E che comunque in un certo senso la loro specie di amicizia continua Omega continua ad essere comunque delusa dell'abbandono di Echo da parte della Bad Batch E questo mi ha fatto pensare che comunque nei prossimi episodi lo rivedremo finalmente E il fatto che Benny abbia voluto dire che in futuro potrà servire di loro aiuto Mi ha fatto pensare che questo episodio non è tanto inutile Perché questo personaggio di Benny con molte probabilità potrebbe anche tornare in episodi futuri e avere un ruolo più prominente E ci hanno fatto vedere molto come si è voluto dall'essere un ladro a stare finalmente dalla parte dei buoni Motivo per cui ritengo che questo personaggio potrà avere come ho detto prima più importanza in futuro E che ritengo inutile ulteriormente scagliarsi contro questa puntata Soltanto perché non ha delle cose importanti da farci vedere